Continuano ad arrivare buone notizie per il centro Alzheimer Margherita di Fanno. La struttura, chiusa cinque mesi fa a causa della pandemia, dovrebbe riaprire entro fine agosto. Ieri l'Unità Operativa Sociale Sanitaria, ovvero l'organismo che riunisce l'ambito sociale e il distretto sanitario, ha approvato il progetto presentato dalla cooperativa Labirinto, con allegati tutti i progetti dei singoli anziani. Dopo l'incontro in Regione con i soggetti interessati è stato chiarito che non è obbligatorio il rapporto uno a uno tra utente e operatore. Infatti non è previsto un numero fisso che invece deve essere stabilito in base alle patologie e alle esigenze di ciascun ospite e secondo le caratteristiche dell'edificio. Intanto la scorsa settimana sono stati eseguiti tamponi sugli operatori, mentre nei prossimi giorni partiranno i test sugli anziani che nel caso di negatività al Covid-19 potranno tornare a frequentare il centro. L'elenco è già nelle mani con i contatti dei familiari del distretto che dalla prossima settimana cominceranno a chiamare, quindi quando saranno fatti tutti i tamponi il centro di fatto potrà ripartire. Come riparte? Riparte con una media di 20 ospiti contemporaneamente, che possono essere appunto 20 al mattino, 20 al pomeriggio e quindi assorbendo tutta la capienza, perché prima la capienza era, diciamolo in maniera chiara, era di massimo 40 persone contemporaneamente. Quindi, prosegue l'assessore a welfare Dimitri Tinti, in base alla delibera il 50% delle persone che prima potevano essere ospitate potranno tornare nella struttura. Convenzionati, precisa, sono 18 frequentanti a tempo pieno oppure 36 a tempo parziale. Con la collaborazione di tutti, di tutte le autorità competenti, il comune, ripeto per l'ennesima volta, che non aveva una competenza specifica per questo centro, ha comunque, ci ha messo la faccia, ci ha messo anche i fondi, siamo stati sempre in prima linea, sia io che il sindaco ci siamo dati da fare, e quindi è un importante risultato che finalmente davvero si possa ripartire con tutta sicurezza, seguendo le norme e soddisfando, ecco soprattutto questo, le richieste dei familiari. Comunque tutti coloro che hanno fatto richiesta, perché di quelli che c'erano prima non tutti sono disponibili a ripartire, ma quelli che hanno fatto richiesta potranno ripartire in tutta sicurezza. Grazie. Grazie.